Poliziotti cinesi in servizio a Roma, Milano, Napoli e Firenze. Gli operatori di Pechino dal 5 al 24 giugno presteranno servizio in Italia, disarmati e con le proprie divise, per essere ben riconoscibili dai loro connazionali. Siamo sicuri che per i cinesi presenti nel nostro paese il fatto di poter vedere delle uniformi conosciute sia una cosa molto importante, ha detto il vice direttore generale di pubblica sicurezza Antonino Cufalo. L'iniziativa presentata lunedì in piazza di Spagna a Roma prevede la presenza di pattuglie cinesi in Italia e viceversa. Grazie.